Presentati dalla lista alternativa per l'Italia i candidati alle prossime elezioni, il leader Mario Adinolfi attacca su fine vita e suicidio assistito. La pagina politica la lista alternativa per l'Italia ha presentato con un incontro stampa online i suoi candidati alle prossime elezioni. Il leader Mario Adinolfi attacca sul fine vita e sui due casi marchigiani di suicidio assistito. Solo nelle marche, dice, sono stati applicati questi protocolli. Guido Maurino. Le battaglie contro l'aborto e l'eutanasia che erano state al centro dell'attività del popolo della famiglia ora proseguono nella lista alternativa per l'Italia, nata dall'esperienza del partito fondato da Mario Adinolfi e quella dell'ex leader dell'estrema destra di CasaFound, Simone Di Stefano. La presentazione dei candidati marchigiani alle prossime elezioni del 25 settembre è l'occasione per Adinolfi di attaccare sul fine vita i due casi in regione che hanno ottenuto, peraltro molto faticosamente, l'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale. Solo nella regione Marche sono stati praticati questi osceni protocolli. Noi candidiamo capolista nelle Marche al Senato. Una disabile marchigiana, Cristiana Di Stefano, che si batte da sempre a favore della vita e delle condizioni dei disabili gravi. La legge 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza, dice Adinolfi, non va rivista, va asfaltata. E poi le critiche per le posizioni definite bellicistiche del governo e di fratelli d'Italia sulla Russia. Già nel nome il partito si ispira all'estrema destra tedesca di Alternative for Deutschland e cita fra i riferimenti le politiche per la famiglia di Orban, le posizioni pro-life di Trump e quelle in difesa della nazione di Marine Le Pen in Francia. Tutti esempi per Adinolfi che si può fare altro rispetto all'essere accondiscendenti a quelli che definisce i diktat della Nato e dell'Unione Europea.